Grazie Presidente. Innanzitutto il bando per le VTA ha avuto un esito assolutamente positivo perché sono stati controllati 80.000 alberi, soprattutto nelle situazioni più pericolose per la città e gli alberi che sono stati ritenuti ovviamente non idoni a stare in piedi perché si verificava che l'albero non fosse staticamente in piedi, allora si è provveduto all'abbattimento dell'albero stesso. È ovvio che il numero di alberi che ci sono a Roma è un numero di gran lunga superiore. Fare questo lavoro col tempo bisognerà farlo, di certo non si può fare in tempi rapidi, questo non è assolutamente possibile. Peraltro c'è un decreto ministeriale del Ministro Costa di marzo che impone ai comuni di adottare un censimento di tutti gli alberi, per cui sarà anche una disposizione di legge che prevederà questo lavoro, ma certo è che ci vorranno degli anni per mettere in piedi un lavoro simile. Per quanto riguarda invece la citata cocciniglia della Commissione, una Commissione che il Presidente Diago ha fatto il 16 di settembre, è stata una Commissione dove sono intervenuti i massimi esperti a livello nazionale sul tema. In tutta Italia hanno un problema con la cocciniglia, il Ministero ha dichiarato in Commissione che a breve darà le istruzioni alle varie regioni su come comportarsi con la cocciniglia, per cui si è in attesa di queste istruzioni per poter agire di conseguenza. Questo ordine del giorno oggettivamente non è votabile perché attualmente non si può portare avanti, pertanto la maggioranza voterà no.